Il Cardinale ha indicato alla Prelatura dell'Opus Dei, tra l'altro una memoria particolarmente significativa perché San Jose Maria moriva a Roma 40 anni fa, la cura della famiglia, soggetto di evangelizzazione, qualcosa che si adatta perfettamente al carisma della Prelatura. Sì, è un impegno in cui tutti siamo coinvolti, tutti in unione innanzitutto con il Papa, con la Chiesa intera e quindi anche con il Cardinale e con la Chiesa che è in Milano, l'attenzione alla famiglia come soggetto dell'evangelizzazione. Non soltanto, noi credo dobbiamo lasciare da parte l'idea che i laici e quindi le famiglie siano come dei destinatari passivi di una missione pastorale della gerarchia. Sono chiesa, sono cristiani, figli di Dio ad ogni effetto, a pieno titolo e in quanto tali hanno una vocazione anche apostolica, quindi una chiamata anche ad essere soggetti di evangelizzazione all'interno della stessa famiglia e come famiglia nella società civile. È stato beatificato pochi mesi fa il successore di San Jose Maria Scrivà, Alvaro del Portiglio. Il Cardinale ha fatto un ricordo molto bello della sua amicizia personale e ha citato parole ricche di significato, ecco il cammino su questa scia di santità. Il messaggio fondamentale di Don Alvaro del Portiglio, successore di San Jose Maria, è stato fondamentalmente quello della fedeltà. Fedeltà al suo predecessore, fedeltà alla propria vocazione, alla vocazione ricevuta da Dio. È una fedeltà però direi attiva, costruttiva, positiva. La fedeltà non è mai semplicemente così ricevere anche qui passivamente qualcosa da qualcun altro e cercare di custodirlo come tenendolo fermo e immobile. È fedeltà che diventa vita personale e questo in Don Alvaro era evidente. Era una persona di un'amabilità, di un'accoglienza straordinaria, io stesso lo ricordo personalmente, l'ho incontrato in varie occasioni, ed era una persona che diffondeva pace intorno a sé, in maniera veramente sorprendente.